bentornati ragazzi oggi nuova guida sugli zerg andremo a vedere come morfare i corruptor in brutte lord ovviamente dovrete usare gli zerg dopo aver creato il nostro corruptor andiamo a cliccare in basso a destra su morph to brutte lord clicchiamo ed eccolo qua un potentissimo brut lord grazie per seguirmi sempre ragazzi continuate a sopportarmi continuate a mettere like alla prossima ciao 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 ciao